Il Movimento 5 Stelle a quest'ultima tornata elettorale incassa un 13% nel territorio di Urbino. Come commenta questo risultato? Noi come gruppo Movimento 5 Stelle Urbino siamo pienamente soddisfatti di quanto è avvenuto nell'ultima tornata elettorale. Diciamo che abbiamo superato la percentuale che avevamo a livello regionale nella scorsa tornata e quindi è stata un'ottima affermazione. Sicuramente siamo usciti da un periodo in cui per molti eravamo già andati giù, ci davano già per spacciati ma invece grazie alla guida secondo me di una persona competente quale Giuseppe Conte è stato riconosciuto il buon lavoro fatto durante un periodo difficile come quello del Covid e alla fine si è riusciti in un ottimo risultato. Secondo lei cosa oltre a questi elementi che ha appena elencato cosa sta più a cuore ai cittadini di Urbino che hanno riconosciuto nel vostro programma? Beh, secondo me i cittadini di Urbino credo che abbiano riconosciuto forse più sinistra nel Movimento 5 Stelle che non nel partito oppure in altri partiti di centrosinistra che sono sempre più vicini alla democrazia cristiana che non a un vero partito di sinistra. Quindi questo possibilmente ha fatto sì che ha fatto spostare dei voti, una buona percentuale di voti verso la nostra forza politica. Sicuramente c'è da mettere l'accento su un dato. Il primo è quello del voto giovane. Gli under 35, dai 18 ai 35 anni, il Movimento 5 Stelle è il primo partito in Italia quindi con circa il 20% di voti. Questo ci fa ben sperare per il futuro. L'altra cosa è quella che noi auspichiamo all'interno della nostra rinascita perché comunque dopo le varie scissioni che abbiamo vissuto e i vari problemi che ci sono stati diano maggiore attenzione ai gruppi locali perché è da lì che avviene la linfa e quindi si possa nel nuovo corso far sì che il 5 Stelle sia sempre più legato ai territori.